Peconte a Genova per sostenere la candidatura di Ariel dell'Ostrologo, partiamo proprio da qui. Intanto un avvicinamento definitivo al Partito Democratico e poi un risultato per il Movimento per lei auspicabile, sotto il 10% per lei sarebbe una sconfitta o come lo considererebbe? Adesso mi va di fare previsioni, di fare valutazioni. L'importante è lavorare, l'importante è presentare questo progetto politico, l'importante è spiegare bene ai cittadini quelle che sono le linee della nostra azione politica, i nostri principi, i nostri obiettivi, i nostri valori identitari e poi valuteremo i risultati. Lei si ritiene padre del modello Genova e poi a livello di opere, grandi opere, ci potrebbe essere un modo per facilitare la costruzione più velocemente di queste opere? È ovvio che il modello Genova l'abbiamo delineato, costruito a Palazzo Chigi, con un mio decreto, con l'allora ministro Toninelli, quindi io con il Movimento 5 Stelle. E questo modello prevede che si debbano fare le infrastrutture e quindi si debba dire sì, tanti sì, per le infrastrutture che servono. Come in questo caso occorreva rimarginare una ferita che si era aperta nel cuore di Genova e bisognava farlo in fretta per consentire a questa città di rinascere, di ripartire al più presto e per dare un segnale al mondo intero. E per questo ci siamo messi, abbiamo elaborato questo decreto, questo percorso normativo, con presidi di legalità ma con forte semplificazione e per questo abbiamo messo a disposizione di Genova e erogato importanti finanziamenti. Il rapporto tra Stato e Autostrada è per noi genovesi ancora una ferita apertissima. Si poteva fare di più l'eritine di aver fatto abbastanza e soprattutto c'era un altro modo per espropriare l'autostrada? Guardi, questo è un capitolo che ci ha impegnato strenuamente a lungo e come sapete sia nel conte 1 che nel conte 2 purtroppo abbiamo ereditato una concessione a favore di autostrade blindata con legge che ha riconosciuto ad autostrada dei vantaggi assolutamente indecorosi, vorrei definirli così. Pensate, e lo ricordo perché oggi semmai si dimentica tutto, che se autostrade ci fosse stata un recesso da parte dello Stato, autostrade per qualsiasi ragione, anche per inadempimento di autostrade, ha diritto a un risarcimento in termini di decine e decine di miliardi di euro. Abbiamo cercato di lottare contro dei privati agguerritissimi, sostenuti anche da forze politiche, lo vorrei ricordare. Andate a rivedere le dichiarazioni, per esempio di Italia Viva, che disse che se avessimo revocato la concessione ci sarebbe stata una lesione dello Stato di diritto. Non dimentichiamo quel che è successo. Abbiamo lavorato strenuamente e dopo aver negoziato duramente abbiamo ottenuto risarcimento dei danni da parte di autostrade e abbiamo ritenuto che stando le condizioni che avevamo e la possibilità di manovra la soluzione migliore era, dopo aver negoziato un cospicuo risarcimento da parte di autostrade, ottenere un cambio di proprietà affidando ovviamente alle regole del mercato il trapasso di quei pacchetti azionari. E chi oggi dice che abbiamo regalato miliardi vorrei dire che è stata un'operazione fatta con fondi internazionali che notoriamente non regalano un euro.